La civiltà dei babilonesi. Una storia di splendore e leggi antiche. Nell'antica Mesopotamia, intorno al 2000 a acquistare, si sviluppò una civiltà straordinaria. I babilonesi, che lasciano un'impronta indelebile nella storia. Esploreremo la loro storia, dalla loro origine fino alla gloria dei re più famosi. Le origini dei babilonesi. L'epopea dei babilonesi iniziò quando un popolo nomade proveniente dall'est invase il territorio di Sumer, gradualmente sottomettendo le città Sumere già indebolite da anni di conflitti. Con il tempo, questi invasori abbandonarono la vita nomade e si stabilizzarono permanentemente, mescolandosi con gli abitanti locali. Questo segnò l'inizio della civiltà babilonese, così chiamata in onore della loro capitale, Babilonia. L'impero di Hammurabi. Nel 1792 a acquistare, il re Hammurabi uni tutti i territori conquistati in un vasto impero. Tuttavia, le città babilonesi furono spesso abbattute da nemici e ricostruite. Questo ciclo continuò fino al 550 a acquistare, quando i persiani distrussero definitivamente l'impero babilonese. Durante questo lungo periodo, la civiltà babilonese conobbe due epoche di grande splendore, la prima durante il regno di Hammurabi, 1792-1750 a acquistare, e la seconda durante il regno di Nabucodonosor II, 605-562 a acquistare. Punto l'eredità dei babilonesi. I babilonesi ereditarono molte conoscenze dai sumeri, imparando a controllare le acque dei fiumi attraverso la costruzione di canali per l'irrigazione. Erano abili artigiani, specializzati nella lavorazione dell'oro, nella produzione di manufatti in ceramica e nella costruzione di attrezzi da lavoro. Inoltre, svilupparono il commercio, navigando attraverso i fiumi per scambiare merci con altre città mesopotamiche. Furono tra i primi a utilizzare una forma primitiva di moneta. La società babilonese. La società babilonese era stratificata. Al vertice si trovava il re, proprietario di tutte le terre e il più importante dei sacerdoti. Seguivano gli uomini liberi, che godevano di molti privilegi e ricoprivano ruoli come sacerdoti, scribi, funzionari dell'esercito e commercianti. Sotto di loro c'erano gli artigiani e i contadini, considerano anche loro liberi. Gli schiavi, prigionieri di guerra privati di diritti, costituivano l'ultima classe sociale. Contributi culturali dei babilonesi. I babilonesi fecero importanti scoperte astronomiche, osservando il cielo dalla cima delle zikurat. Impararono a distinguere stelle e pianeti, studiarono le costellazioni e le eclissi, nonché le fasi lunari. Questi studi li portarono a creare un calendario lunare, basato sulle fasi della luna, che consisteva in quattro settimane di sette giorni ciascuna, per un totale di dodici mesi all'anno. Il codice di Hammurabi, leggi per l'antica Babilonia. Hammurabi fu il primo re nella storia a scrivere leggi per regolare vari aspetti della vita dei suoi sudditi. Questo codice, inciso su una grande stele di pietra chiamata Stele di Hammurabi, conteneva 282 leggi. La regola di base era la legge del taglione. La punizione per un reato doveva essere equivalente al crimine. Ad esempio, se qualcuno cavava un occhio a un altro, subiva la stessa sorte. Tuttavia, le pene per gli schiavi erano meno gravi. La grandezza di Babilonia. Babilonia sorgeva sulle rive del fiume Eufrate, nell'attuale Iraq, e il suo nome significava la porta di Dio. La città divenne famosa per la sua bellezza, con palazzi, case e celebri giardini pensili, considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. Era protetta da una doppia cinta muraria, una interna, lunga 8 chilometri, per le attività politiche e religiose, e una esterna, lunga 18 chilometri, che delimitava i terreni agricoli e i quartieri residenziali. La città aveva otto grandi porte, ognuna dedicata a una divinità. La porta di Ishtar, un simbolo di Babilonia. La porta di Ishtar era una delle porte più belle e famose di Babilonia. Costruita in mattoni cotti e rivestita di piastrelle di ceramica azzurra, era decorata con rilievi raffiguranti animali sacri come tori, leoni e draghi. Simboli di protezione per la città. Oggi, è possibile ammirare una ricostruzione di questa magnifica porta al Bergman Museum di Berlino, realizzata utilizzando i materiali recuperati dagli scadi. Babilonia al tempo di Nabucodonosor II. Nel periodo di Nabucodonosor II, Babilonia era una città maestosa con una ziggurata alta 90 metri. Il Palazzo Reale era circondato dai famosi giardini pensili, e la città era protetta da una cerchia di mura con otto porte, tra cui la maestosa porta di Ishtar. In conclusione, la civiltà babilonese ha lasciato un'eredità duratura nella storia dell'umanità. Le sue leggi, le scoperte astronomiche e i monumenti magnifici testimoniano la grandezza di questa civiltà antica che ha prosperato lungo le rive dell'Afrate, nella porta di Dio, la splendida Babilonia. Grazie a tutti.